Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Il nuovo procuratore capo di Arezzo Gian Federica Dito si è insediata questa mattina negli uffici del Palazzo di Giustizia di Arezzo. Andrà ad occupare il posto che era stato di Roberto Rossi, oggi procuratore generale della Corte d'Appello di Ancona. Dito è stata PM nel processo all'assalto della sede della CGL nel quale era stato condannato anche un aretino e si è occupata del caso di Walter Bayot, ufficiale della Marina accusato di spionaggio. Per oltre 16 anni Gian Federica Dito ha svolto funzioni requirenti, si è occupata di reati contro il patrimonio, contro la persona, in particolare violenze sessuali e abusi sui minori, colpe professionali e infine di reati contro la personalità dello Stato e contrasto al terrorismo sia interno che di matrice islamica. Buon lavoro ovviamente al nuovo procuratore capo da parte della nostra redazione. Rimaniamo in ambito forense, insomma processuale, ma parlando di intelligenza artificiale, già possibile appunto grazie alla cosiddetta AI, in ambito forense, addirittura attingere più velocemente alle banche dati, ma non solo. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Alessandra Iosef che ci spiega però pro e contro appunto dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi. Bisognerà assolutamente dosarla e capire come dosarla perché anche facendo una ricerca con i famosi motori di ricerca di intelligenza artificiale che hanno individuato, non spesso le ricerche danno esiti corretti perché bisogna capire come è stato impostato l'algoritmo e molto spesso l'algoritmo non è corretto, quindi danno risposte che non sono veritiere. Si è parlato anche dell'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito forense nell'ultimo forum, il Privacy Day, che si è tenuto ad Arezzo. Gli esperti che sono intervenuti hanno raccomandato la massima attenzione. Molto spesso capita di vedere all'interno dei processi i documenti che sono realizzati con l'intelligenza artificiale e quindi diventa estremamente difficile riconoscere quello che è vero e quello che non è vero. Bisognerà prestare molta attenzione e molta professionalità da parte di noi avvocati. Proprio in ambito forense questo tipo di tecnologia, ma insomma poi tutto l'ambito ovviamente della privacy, ci sarà immagino un aspetto positivo e un aspetto negativo. Esatto, aspetto positivo e un aspetto negativo. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, già tutte le banche dati di cui siamo dotati si sono interfacciate con l'intelligenza artificiale e danno già l'interfaccia con l'intelligenza artificiale. Sarà un problema per quanto riguarda le prove che vengano acquisite nei processi. Per fare delle simulazioni abbiamo provato a fare dei video integralmente creati con l'intelligenza artificiale completamente falsi e provare a produrli in un processo facendo presente che era ovviamente falso ma il video risultava corretto. Quindi sarà molto difficile per quanto riguarda i processi distinguere quello che è vero e quello che non è vero. Era un autista di professione, un motociclista appassionato e proprio in sella la sua moto ha perso la vita. È morto ieri in un incidente stradale. Walter Nappini aveva 61 anni, originario di Castiglione del Lago, ma viveva ad Arezzo con la moglie e i due figli. L'incidente stradale è avvenuto in A1 all'altezza di Sasso Marconi in direzione Bologna. Vani purtroppo i soccorsi. Nappini è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna. Domani, venerdì 21 giugno, dalle 8 alle 20, sarà allestita la Camera Ardente presso la Misericordia di Arezzo. Sabato 22 giugno alle 15, i funerali presso la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato di Arezzo. Un incidente poco dopo le 15 di oggi in località Chiaveretto, Frazione, al confine tra i comuni di Arezzo e Anghiari, i sanitari dell'emergenza urgenza sono intervenuti per soccorrere una persona che era stata investita da un camion in manovra. Si tratta di un 62enne che è stato poi trasferito in codice giallo all'ospedale delle Scotte di Siena a bordo del Pegaso. E' stato scoperto un dormitorio abusivo tra Quarata e Campolucci lungo la strada provinciale della Libia. Due le persone che avevano trovato rifugio in un palazzo abbandonato e nella notte tra martedì e mercoledì scorso è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti al loro arrivo hanno trovato una situazione di degrado. I due, entrambi i stranieri, sono stati fatti uscire e identificati. Farmacia dei Servizi, l'appello di Federfarma alla Regione operi per avviare in tempo la sperimentazione. E' assolutamente necessario che la Regione Toscana operi rapidamente per avviare in tempo la sperimentazione che porti alla piena realizzazione della Farmacia dei Servizi. Federfarma Arezzo su questo tiene alta l'attenzione attraverso queste parole del Presidente Roberto Giotti che in rappresentanza delle oltre 100 farmacie private della Retino avverte che è a rischio uno sportello sanitario indispensabile per la popolazione, soprattutto nelle aree rurali. Federfarma lancia quindi l'allarma ai cittadini. Se la Regione Toscana non promuoverà rapidamente le procedure necessarie salterà l'attuazione, più volte invece promessa direttamente dallo stesso Presidente Gianni della Farmacia dei Servizi. Alcuni dei nuovi servizi previsti nel progetto della nuova farmacia, spiega Giotti, sono innovazioni davvero fondamentali a beneficio dei cittadini. Aspettiamo dunque che si concretizzino le giuste e necessarie aspettative di risposta, insiste Giotti, sia sul recepimento regionale della normativa nazionale della Farmacia dei Servizi, sia sulla dovuta programmazione e rendicontazione dell'attuale fase di sperimentazione, con attuale scadenza al 31 dicembre 2024 dei relativi servizi previsti dal protocollo operativo nazionale. Attualmente la Regione Toscana prosegue e propone solo una delibera di giunta per modificare in Consiglio la vetusta legge numero 16 del 2000 sull'autodiagnostica, senza che il contenuto della relativa proposta faccia riferimento alcuno a tutti gli altri importanti servizi previsti dalla normativa nazionale sulla farmacia dei servizi, come ad esempio l'effettiva presa in carico del paziente nelle malattie croniche, con relativo previsto monitoraggio e aderenza terapeutica. Attualmente è prevista solo una delibera di giunta per le effettuazioni attraverso le farmacie territoriali dello screening coro-retto. Veramente, conclude Giotti, poca cosa. 336 candidature per 18 assunzioni a tempo indeterminato in Toscana, negli ospedali periferici, di montagna e delle isole. Sono appunto 18 i posti fuori dai grandi centri urbani, dove ai giovani medici che saranno assunti potranno essere riconosciuti incentivi economici e percorsi di carriera e di professionalizzazione mirata. Pare avere riscosto dunque successo il bando sperimentale unico in Italia, curato proprio da Estar, che si è chiuso nelle scorse ore che la regione aveva promosso per dare una risposta al problema della bassa attrattività di alcuni presidi, appunto proprio per via del territorio in cui si trovano. Il presidio della Polizia Municipale di Arezzo, in piazza Guido Monaco, si è dotato di un defibrillatore semiautomatico donato dal Lions Club Arezzo Host e dal Lions Club Arezzo Mecenate. Sono già 10 gli agenti di Polizia Municipale istruiti appunto per poterlo utilizzare. Un altro presidio che rende Arezzo ancora di più cardioprotetta? I suoi vigili hanno fatto il corso? Sì, noi si è già utilizzato in precedenza in altri progetti il defibrillatore, in quanto si veniva utilizzato nel furgone del pronto intervento in caso di necessità. In questo caso già 10 di noi hanno fatto il corso, però a settembre verrà ripetuto tramite il 118 con un numero più cospicuo. Ecco, questo defibrillatore aggiunge sicurezza anche in questa parte di città che è molto trafficata, molto vissuta. Sì, è una parte di città molto attiva dove i cittadini aretini si ritrovano, vivono, socializzano, ma non solo, anche i numerosi turisti che affollano la nostra città durante tutto l'anno, per cui noi siamo veramente molto orgogliosi di poter accettare questo dono dal Lions. Li ringraziamo e nell'interesse di questa amministrazione continuare ad aumentare i dispositivi di sicurezza per la salute pubblica. Le dico anche come Presidente dell'Unione Italiana dei Scechi, degli povedenti ci sono anche dei corsi formativi anche per persone minorate della vista. Ciò non toglie che qui per quanto riguarda il presidio c'è sicuramente la competenza, la capacità, la conoscenza di poter mettere in campo tutti quegli interventi efficaci che possano consentire di poter intervenire quando ce n'è bisogno. Per quanto mi riguarda come Lions sicuramente è importante un'occasione come questa che ci ha dato modo di intervenire in maniera particolare ma diretta sulle esigenze della sicurezza in ambito territoriale. Per noi è estremamente importante e la nostra mission è anche quello di intervenire a supporto, a sostegno di quelle che sono le esigenze della città, del territorio. Mancava un defibrillatore in questa zona della città? Sì, infatti per una piazza Guido Monaco più sicura perché purtroppo l'arresto cardiaco è un'emergenza medica che può colpire chiunque e senza preavviso. La maggior parte delle volte questo succede lontano dai luoghi sanitari e quindi nei luoghi pubblici. Per cui questo ci rende veramente orgogliosi perché una tempestiva azione con l'utilizzo di un defibrillatore, chiaramente meglio se utilizzato da personale formato, ci consente di ridurre del 70% la probabilità di morte e quindi facilitare, aumentare la probabilità di sopravvivenza e anche di ridurre gli esiti neurologici che purtroppo già dopo pochi minuti dall'inizio dell'arresto possono conseguire. Parlando proprio di arresto cardiaco, alla presentazione appunto di questa bella donazione, erano presenti anche i vertici del 118 ed è stato proprio il direttore della centrale operativa del 118 di Arezzo Simone Nocentini a precisare che anche chi non ha effettuato alcun corso è comunque, diciamo, possibile che possa utilizzare un defibrillatore purché chiami preventivamente il numero di emergenza, ovvero il 112. Lo sentiamo ai nostri microfoni assieme a Luca Pancioni, disaster manager proprio del 118 Aretino. Il direttore prosegue il cammino di questa città sempre di più cardioprotetta. Vogliamo ricordare, forse non lo si fa mai abbastanza, che davvero i primissimi minuti dopo un arresto cardiaco sono fondamentali. Sì, sono fondamentali per poter salvare realmente la vita della persona. Chi si dovesse trovare in un frangente di questo genere o dovesse assistere ovviamente deve innanzitutto chiamare il numero unico dell'emergenza, quindi l'112 che poi trasferisce la chiamata al 118 di Arezzo, locale, e deve seguire le istruzioni che gli vengono date dal personale della centrale 118, il quale ovviamente è in grado di identificare il defibrillatore più vicino, se non è già stato preso di inviare a prenderlo e poi utilizzarlo in piena sicurezza. Non si fanno danni con i defibrillatori, ma anzi mettendosi a disposizione dell'altro veramente in questo caso si può aiutarlo a vivere. Ecco, la prima indicazione appunto, come diceva il direttore, è chiamare il 112 anche per capire se ci troviamo di fronte ad un arresto cardiaco o a un qualsiasi altro malore. In questa situazione sono utilissime le istruzioni, le domande per arrivo che facciamo noi dal 118. Il nostro triage o intervista telefonica non è perdita di tempo, perché chi prende la chiamata, chi riceve la chiamata, chi la gestisce dal punto di vista telefonico non è colui che invia il mezzo. Nel frangente che l'utente è al telefono con l'utente c'è un altro collega, un altro operatore in sala operativa che invia il mezzo, quindi non è perdita di tempo, anzi sono notizie utili che a noi servono per capire il tipo di risorsa da inviare e soprattutto sono utili per le istruzioni per arrivo perché ci possono essere delle manovre da mettere in atto, compreso l'uso del defibrillatore che possono salvare la vita all'utente. Una nuova sinergia ferro-gomma-mare parte proprio dalla provincia di Arezzo per il trasporto integrato e sostenibile di prodotti in calcestruzzo di grandi dimensioni. Grazie alla collaborazione tra il gruppo Baraclit, il polo logistico del gruppo Ferrovie dello Stato e il gruppo Grandi, per la prima volta in Italia appunto dei prodotti di calcestruzzo viaggiano in treno poi con un trasporto marittimo nazionale fino alla Sardegna e infine con una consegna camionistica di ultimo miglio, una combinazione di modalità di trasporto che ottimizza la resa e minimizza al massimo l'impatto ambientale, una modalità che permette di togliere dalle strade della Toscana 600 camion e secondo le stime evitare l'emissione di circa 210 tonnellate di CO2. Parliamo adesso invece del Museo archeologico Gaio Cilio Mecenate, entro la fine di questo mese entro la fine di giugno sarà riaperto il parco, per l'ingresso invece da Via Crispi ci sarà ancora da attendere ai nostri microfoni la direttrice Maria Gatto. Entro la fine di giugno il parco dell'Anfiteatro Romano di Arezzo si riaprirà, lo annuncia Maria Gatto direttrice del Museo archeologico Gaio Cilio Mecenate a quasi un anno dalla chiusura. La misura si era resa necessaria per ragione di sicurezza per via della caduta di un grosso pino avvenuta la scorsa estate. A breve dunque i cancelli si riapriranno almeno dalla parte dell'ingresso di Via Margaritone. Allora noi stiamo lavorando ad un progetto di riapertura inizialmente della parte su via Margaritone che è già stata messa in sicurezza per quanto riguarda appunto gli alberi, le piante e adesso appunto andremo ad inserire degli arredi urbani quindi sedute, panchine e tutto quello che può servire a rendere questo spazio maggiormente fruibile e a consentire una sosta in questo luogo anche dando valore alla sua relazione con l'area archeologica dell'Anfiteatro su cui si affaccia. Invece l'ingresso da via Crispi necessita ancora di qualche tempo di pensiero o di progetto? Dunque stiamo lavorando chiaramente sull'aspetto economico perché l'intervento su via Crispi chiaramente è più oneroso e però abbiamo varie ipotesi su cui stiamo lavorando e in ogni caso insomma siamo molto attivi anche su quel fronte. E siamo allo sport, parliamo di basket. Questa mattina in una conferenza stampa le prime dichiarazioni del primo colpo di mercato della SBA ovvero Michael Lammi. Sentiamo. Un metro e 97 dotato di grande temperamento e fisicità, insomma un vero fuoriclasse. Michael Lammi è il primo colpo di mercato della scuola basket Arezzo. È un giocatore di molta esperienza di questo campionato, di questi campionati, anzi del campionato di Serie B nazionale. Ha giocato in tantissime squadre. è un giocatore versatile, è un'ala, può creare spazi, può penetrare, può stiacciare. Cioè veramente un grande giocatore. L'abbiamo voluto fortemente. Michael ha accettato ben volentieri il nostro progetto. È un atleta fisico, molto fisico, aggressivo. Quindi era quello che a noi mancava per la costruzione della nuova squadra. E da lui e insieme a Toia partiremo per, vedrete a breve, i nuovi giocatori che abbiamo scelto. All'esperta, reduce da una stagione divisa tra la Serie B nazionale a Cassino e la Serie B con Fiumicino, Lemmi sarà il nuovo punto di riferimento della SBA nell'area pitturata grazie al suo atletismo. A Rezzo, come dicevo prima, c'è un progetto giovane, ambizioso. La passione, perché la città ha grande passione, ha grande cultura di basket. E più, una cosa importantissima, è perché diciamo che con l'età ho deciso di tornare verso casa. Qual è il contributo che vuoi portare? Ma a livello di gioco, la mia esperienza. Cioè, quindi la voglia di lavorare, la voglia di migliorarsi, anche ora che ho 34 anni. Io, come caratteristiche, sono un ragazzo, sono atletico, mi piace molto difendere. In attacco, sono riuscito a costruire anche un tiro, il tiro che era, diciamo, qualche anno fa un mio punto debole. Quindi riesco un po' a ricoprire un po' tanti ruoli, dal centro alla piccola, le ricopro tutti in questa categoria. A livello personale cercherò invece di riuscire a creare un gruppo, di riuscire a trasmettere quello che ho imparato io in questi anni e ai miei nuovi compagni di squadra, perché la squadra sarà giovane, però secondo me saranno tutti ragazzi vogliosi e ambiziosi. Penso che, come me, loro non vedano l'ora di riniziare. Avevamo promesso di fare comunque una squadra competitiva e provare anche a fare qualcosa di più dello scorso anno, che è stato un grandissimo campionato. Abbiamo conosciuto la categoria, adesso proveremo a fare qualcosa, anche se la squadra è quasi completamente nuova, quindi ci vorrà un po' di tempo per assemblare. Ed infine parliamo di calcio, è ufficiale anche il primo acquisto dell'Arezzo. Si tratta di Niccolò Gigli, classe 1996, difensore, ha firmato un contratto biennale. Mancino di piede si è svincolato dopo due stagioni al Rimini. Dotato di grande struttura fisica, va ad aggiungersi alla lista dei centrali, che al momento comprende anche Chiosa, Lazzarini, Masetti, Polvani, Risaliti e Maloku, che rientra dal prestito. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.